Ciao a tutti ragazzi, benvenuti con questo nuovo episodio di PES 2021 Mobile siamo qua su MyClub dopo che l'ultimo episodio ho veramente fatto tanto spaccatamenti volevo tanto Sergio Ramos proviamo in questa sessione qua di PES di provare a trovare Sergio Ramos ragazzi perché aveva veramente bisogno di un mio difensore decente prima di cominciare questo video comunque volevo salutare tutti i miei iscritti Andrea Roffi, Emanuele, un tifoso milanista saluto ovviamente tutti quelli che guardano questo video e non solo grazie mille ragazzi di cuore che state guardando questo episodio di PES lasciate un like per favore se vi è piaciuto perché mi aiutate veramente a crescere perché come sapete, vi ho detto anche l'altra volta devo arrivare a 4.000 ore di visualizzazioni per poter diventare partner di YouTube quindi se guardate tutto il video mi è data veramente un grande mano adesso ragazzi siamo qua su MyClub andiamo un po' su cos'è questa opzione qua allora c'è il pacchetto CR7 17,99 c'è il pacchetto Messi 17,99 no assolutamente allora ragazzi io non spendo questi soldi qua anche perché Messi ce l'ho già se proprio devo spendere i soldi piuttosto li spendo in monete perché alla fine non vale la pena con 17 raccolta i 1.600 monete Cristiano Ronaldo due agenti palloni neri e tema di Cristiano Ronaldo vediamo un po' giocatori disponibili con cosa sono ragazzi questi qua non so cosa sono ditemi voi cosa sono questi 10.500 là sopra Chiellini con 1.500 sono giocatori in prestiti questi non so cosa sono questo non ho mai visto anche perché sulla PlayStation 4 non c'è adesso c'è division division del Barcelona c'è token abilità busta posizione sono tutte cose che a me sinceramente non mi interessano a me ragazzi mi interessa prendere tanto se giuriamo spaviamo un po' quelle monete My Club no ragazzi costano veramente un sacco di soldi un nero 100 monete che puoi fare solo un giro non vale assolutamente la pena ho 220 monete proviamo a scottere un po' di premi scottiamo un altro le 10 proviamo a fare almeno 3 giri in questo episodio qua ragazzi farò anche una partita online visto che non ho ancora fatto però prima di fare una partita ragazzi come sempre facciamo ancora gli spaccatamenti perché li adoro purtroppo non ho tanto monete GP dovrò giocare un po' dopo appena magari avrò delle altre monete le altre GP magari farò anche altri spottacamenti andiamo su Al Madrid ragazzi perché io voglio provare Al Madrid l'altra volta mi è andato male con con Juve che ha preso da volto con Luzeschi qua c'è agente 100% questo è un bonus successo buono questo bonus qua avere la squadra aiuta veramente tanto quindi proviamo a ingaggiare Paolo Duballa cosa ne dite ragazzi proviamo andiamo a scelta Duballa Paolo Duballa Paolo Duballa peccato che ragazzi Duballa stanno a Duballa Paolo Duballa ragazzi Duballa dove la mettiamo Duballa ragazzi mettiamo seconda punta costa di Messi no si sa che fa panchina Duballa comunque ragazzi 91 poi può crescere ancora su me qualche possibilità partita in corsa bisogna dare Duballa andiamo su agente l'alma dei ragazzi se mi dai Sergio Ramos faccio un urlo ragazzi faccio un urlo se mi dai Sergio Ramos vediamo un po' boom 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 l'altro episodio non lo vedo Sergio Ramos Spagna no mi sto cazzo dice Sergio Ramos non si dice chi è 4 4 chi c'è il 4 in Madrid ragazzi chi c'è il 4 chi c'è il 4 in Madrid Sergio Ramos ragazzi non ci posso credere non ci posso credere vai cazzo volevo Sergio Ramos è uscito lui ragazzi da tre episodi che cerco Sergio Ramos ed è uscito lui sono stra stra felice sono stra stra felice ragazzi poi abbiamo obiettivi c'è ancora un altro giocato ragazzi andiamo un po' modificare l'assetto tattico ovviamente ho bisogno di difensore vediamo un po' se la mettiamo in difesa ecco mi escono anche queste cose che sto registrando che mi arrivano notifiche da altre applicazioni mi dà veramente una rabbia ragazzi ma purtroppo sono online succede con questa cosa sto registrando con il telefono quindi scusatemi allora dobala in panchina potremmo mettere Goluzeschi in come accendere la pista perché le guarda quel med lì che fai veramente cagare no non male Goluzeschi come mediano non è neanche tanto male però vediamo dobala come cc perde tanta perde tanta ragazzi sempre 89 non cambia assolutamente niente questa è la mia migliore formazione possibile vediamo un po' cosa riusciamo a fare con questa formazione qua le modifiche sono state salvate andiamo fuori mettiamo messi un attacco non si può vedere non si può vedere cosa sto combinando c'è il son prima mettere il son ragazzi il resto in panchina ecco meglio il son perché il panchina che fa il centrocampista non la vede ma anche il son però è l'unico che ho che individuiamo con lui allora ho 20 messaggi non so cosa sia se la roba di aggiornamenti non voglio fare che essenzialmente adesso non mi interessa andiamo su adesso vediamo un po' questi sono veramente ecco come pensavo io sono tutti aggiornamenti del sistema andiamo su agente ho veramente ultimo giro del orologio da poter veramente giocare andiamo su che andiamo ragazzi vai al monaco io andrei su vai al monaco perché comunque a juve che c'è un altro speramente non mi sarà andiamo sul celsi dai provo a provare il celsi vediamo che posso non ho provato il celsi non so che nazione no palone grigio che palle come ho fatto la peggio scelta che potevo fare ragazzi vabbè non è andata chi è questo che nome che nome stanno ragazzi ecco non ho più non ho più monete io andrei cosa dite ragazzi va bene la partita online con la squadra che ho per vedere quanto perdo perché ragazzi come sapete non so tanto ancora i comandi quindi scusate se faccio figure di merda spero di vincere però la vedo dura allora questo qua c'è msday partecipa ingaggia la leggenda addirittura questo qua rock legend ti dà la possibilità di ingaggiare la leggenda cioè giochi questa partita qua portatevi a 5 partiti questo avente per tenere ad un agente legends proprio così non devi assolutamente né vincere né perdere basta che tu giochi la partita non male ragazzi non male quindi giochiamo ragazzi giochiamo partiamo veramente bene bene ancora ho cominciato la partita io dico partiamo bene in senso partiamo bene che non va non mi trova come sempre neanche un avversario ma beh che appena io con inter albanese volevo scrivere intervista albanese ma me la fa scrivere poi c'è la spalla ragazzi ma dopo voglio cambiare voglio mettere un'altra squadra perché la vita divisa dalla spalla non mi piace per niente ma questa è la mia partita mia prima partita assoluta online su PES Mobile ragazzi se voi state guardando in questo video ditemi se volete che porto anche FIFA 2021 mobile perché l'ho scaricato ditemi se volete anche che porto anche FIFA come nuova serie magari porterò un video alle 15 di PES magari l'altro alle 17 di FIFA quindi magari farò due video di serie uno su tre video al giorno magari uno su PES uno su FIFA e uno su l'Inter in generale ecco ragazzi mi arrivano notifiche sono tutto in diretta quindi scusate se vedete che i miei amici su TikTok non solo mi scrivono quindi insomma sono in diretta ho fatto tutto live in diretta quindi basta il segno però che palle il PES sempre ho avuto questo problema il PES ragazzi anche solo per il Session 4 ci mette veramente un casino di tempo a trovare una buona serie passa il segno ormai l'abbiamo capito dai PES mi fai venire nervoso cominciamo sta partita spalla atletico di Madrid dai dai vediamo un po' avessiamo un po' il volume che è alto ecco ragazzi cominciamo palla alla spalla Van Basten attacco con Kuliozeski vedi che dà un sacco di GP Dubala Dubala per Sergio Ramos Sergio Ramos quello che volevo tantissimo Kuliozeski mediano fa un po' schifo però adesso andiamo con Messi Messi per Van Basten ragazzi scusate ma gioco veramente male mi ha già preso il pallone sento che questa partita qua prenderò una bancata 4-5-0 però comunque prima o poi dovevo cominciare a giocare a PES online su mobile allora ragazzi vi dico veramente unicono fenomeno bravissimo giocavo molto bene 70% del partito li vincevo mobile è un po' più difficile credo non sono mai abituato a giocare così senza tasti del comando adesso dà anche GP ragazzi perché è la prima partita sono contento così magari possiamo fare qualche GP per allora Dubala Dubala molto lento Dubala Leo Messi anche lui c'è Messi però gioca molto molto meglio di me ragazzi Hector Bellerin Leo Messi per Bellerin attenzione attenzione Hector Bellerin cross 1-0 ragazzi è già preso a gol 16 minuti del primo tempo 16 minuti del primo tempo Valerio mi ha detto uno Spal zero dai ragazzi mi sento questa vita qua quando era imbarcata se avete qualche consiglio da darmi per giocare nel gioco scrivetemi pure nei commenti però Messi 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 ma Messi ragazzi io sto facendo ragazzi io perdo i giocatori non riesco a cambiarli ci metto tanto tempo a pressare ci vuole almeno 3-4 partite per capire un po' come funziona questo gioco ragazzi vedrai che dopo andrò meglio lui gioca veramente meglio Cristiano Ronaldo mamma mia ragazzi tutti i fenomeni tutti i fenomeni mamma mia parola 2-0 no cos'è? fuori gioco dimmi se fuori gioco non è rigore fuori gioco questo fuori gioco mi è andato bene mamma mia mi è andata bene mi è andata veramente bene dai come cazzo si tira qua come cazzo si tira ecco triamo ciao Sageramos 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 Dubala Dubala per Davies questi ragazzi è fortissimo questo giocatore qua se mai riesco a scontrarlo al meglio nelle prossime partite perché ormai questa non è andata già fa troppo bene Messi 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 ma mamma mia lo cupro per la mano è veramente lento o sono io che non so usarlo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Tiro mamma mia ragazzi che brava Ederson Ederson bravissimo bravissimo Ederson ragazzi veramente fortissimo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo non si fa niente non si passa ovviamente gioca bene gioca bene perché io sono scarso ovviamente perché Matteo se Matteo 2-0 tira 2-0 mamma mia Ederson ho fatto veramente bene ho fatto veramente bene a a far crescere Ederson mi sa che era 94-93 di writing quindi ho fatto veramente bene Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo attenzione Kolozeski recupera Kolozeski Davies Davies Van Basten ma ragazzi Van Basten però niente di che vabbè dico niente di che ma sarò io come dico sempre scarsa ciao Messi ciao Messi ciao Kolozeski ciao Kolozeski Kolozeski Van Basten Van Basten per Messi Messi super Messi ragazzi Messi per favore tira Messi come cazzo si dice qua ragazzi come si dice Messi super tira 1 a 1 1 a 1 1 a 1 ragazzi 1 a 1 1 a 1 ragazzi 1 a 1 Leo Messi un fenomeno ha saltato l'avversario dritto in porta 1 a 1 ragazzi il mio primo gol in PES quest'anno bacio a tutti facciamo risultanza come si deve dai dai Messi mi sei piaciuto Messi ecco adesso vinciamo 6 a 1 si magari adesso è volta buona che ci fanno ecco finito anche il primo tempo ragazzi mi sta regalando un sacco di GP come fa sempre PES quando fai la prima partita ogni mossa che fai ti dà il regalo di GP vediamo che l'avversario non ci metta tanto a iniziare al secondo tempo un'attesa dell'avversario ecco non entra non entra ragazzi non è che posso stare qua 10 minuti e aspettare te è perché non c'è tanto tempo da tagliare il video dopo mamma mia vuole la gente ragazzi che sta lì 3 ore a modificare la formazione come se è un gioco se vinci si perde i giochi si diverte ecco ragazzi cominciate il secondo tempo prendiamo in braccazza con la sento con le altre 3 gol lì prendo sicuro Ederson 3-4 ovviamente il primo tempo mi ha salvato Ederson ovviamente è partito dominata dall'avversario Kuzeschi in mediana fa veramente schifo lentissimo mi sa veramente un mediano buono mi sa che metterò se aggeriamo se mediana vedete comunque non ho un mediano buono ecco neanche il tempo a dirlo ragazzi 51esimo dal secondo tempo Atletico ma ha detto 1 2 e spalla 1 l'intervista albanese mi sono messo molto molto male mi sono rassegnato dovevo fare magari più partite offline per allenarmi un po' perché veramente ci metto tanto tempo a Sergio Ramos ci metto tanto tempo a spingere i pulsanti ecco perché non ho la manualità se devo pressare prima guarda doveva il tasto presa non viene automatico capito quindi non viene automatico come in PS4 che mai conosci in tasti di memoria vedi Cosevski 3 anni a tirare le ho messi Owen ha messo Owen in campo ci usiamo questo ragazzi è fortissimo perché è un unico ecco ragazzi vedi che passaggio sbagliato che ho fatto qua adesso Owen tira Rete Rete sicuramente Rete no parato Ederson mamma mia Rete vale che c'è Ederson perché se no mentre facciamo una figura di merda vediamo Hector Belloni tira Ederson facile però Ederson siamo sul 2-1 64esimo l'alletico Madrid spara 2-1 mentre sto facendo schifo ragazzi a parte il gol di Messi che non so nemmeno io come ho fatto che non so nemmeno io come ho fatto vedi che già ci metto tre anni a girare già l'avversario quasi mi recupero il pallone scegliamo 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 per Davies mi so forse più veloce su Davies qua eh bravo bravo Davies dopo alla per me ecco Messi 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 no niente ragazzi devo imparare un po' essere meno Messi dipendente anch'io dovevo giocare un po' più di squadra senza stare lì giocare con Messi adesso mi recupero il pallone ecco Naldinho 2-0 2-3 mamma ragazzi ma cos'è cos'è rigore rigore no ah mi ha salvato il pedo c'è veramente un fenomeno in porta ragazzi se non era per lui il partito da qua era già 5-6-0 5-0 no comunque un gol l'ho fatto dai Messi passa ah ragazzi con il pallone da passare ci ho provato tre anni ma non non vanno i pulsanti cioè non vanno non so io fare ecco ecco regaliamo il pallone ecco mamma mia ragazzi che incubo che incubo sto partito qua al momento devo fare più partite offline per comparare un po' i tasti perché sto facendo veramente schifo schifo cross in area di rigore cross Renan Lodi chi è questo non lo so Naldinho tira la rete ecco era nell'area ragazzi era nell'area mi è andata abbastanza bene fino adesso speriamo che non fa anche il quarto nella fine perché mancano ancora 5 minuti falso ma mancano ancora 5 minuti nel gioco che palla ragazzi che delusione spero di farmi nel prossimo partito che farò ecco lui vince e mette anche in pausa ma che palla però mi fanno incazzare questi qua che mettono in pausa dai che facciamo un altro gol loro però davis 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 comunque devo cambiare l'antore non mi piace più questo faccio 4-3-3 dai 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 mamma mia ragazzi un'altra azione tira Romario fuori alto almeno ho tirato non importa ma ho tirato almeno un'azione medio decente ho costruito un'azione non c'è qualcosa per me dai guardiamo il lato positivo ho tirato una volta in porta gol seconda azione sto quasi per fare gol quasi mancano veramente pochissimi secondi ecco mi ha dato il gp per cento al volo finita la partita ragazzi una delusione totale speriamo che Inter stasera contro lo Shakhtar faccia meglio perché ragazzi ci sarebbe assolutamente vincere finita la partita andiamo avanti però ragazzi mi ha regalato 360 gp e sono cresciuti i vari giocatori di punto di esperienza andiamo avanti però adesso possiamo fare spaccatamente possiamo fare spaccatamente perché mi ha regalato una leggenda gratis spirit di squadra aumentato ecco ragazzi c'è da dire che anche ho lo spirito di squadra veramente scarso sappiamo che in PES conta molto lo spirito di squadra e quando hai spirito di squadra 50 così la squadra veramente gira male ecco questo bisogna dirlo su PES perché almeno bisogna avere lo spirito di squadra su 80 85 perché i giocatori hanno un po' più di intesa ecco prendiamo un po' di monete magari se magari arriviamo a 100 possiamo fare un altro spaccamento a 10 70 dai dai che arriviamo a 100 forse da squadra 80 ma c'è un'altra possibilità lì con forse da squadra andiamo un po' c'è ancora ecco ragazzi facciamo la leggenda gratis facciamo un altro spaccamento magari prendiamo altri due fenomeni magari ma qua non finisco più di regalarmi monete 130 dai che arriviamo a 200 allora 140 no niente non riesco ad arrivare a 200 quindi va bene così c'è un regalo là sopra non capisco cos'è allora andiamo su andiamo su guardiamo un po' Chelsea Belmonaco Real Madrid cazzo dove si trova la leggenda qua come faccio a trovare la leggenda da spacchettare mi hanno detto che ho vinto la leggenda dopo la partita no trovo più bah non trovo più la leggenda ragazzi non trovo più la leggenda dove la leggenda non lo so tanto spacchettiamo visto che abbiamo la possibilità poi ragazzi io voglio trovare quel cazzo di leggenda ecco spacchettiamo Bayer Monaco esce che esce perché voglio spacchettare anche su Bayer Monaco vediamo un po' vediamo un po' che è del Bayer Monaco pallone nero ragazzi pallone nero 100% segnalato chi è questo nabri ragazzi nabri mamma mia ragazzi mamma mia ragazzi il fenomeno questo questo è un fenomeno del Bayer Monaco nabri nabri mi sono sbagliato con il mio parrocchiera si chiama nabri anche lui nabri nabri ragazzi dove si trova la leggenda non lo so non riesco più a trovare la leggenda ragazzi scattiamo altre 50 monete siamo 50 ragazzi ditemi dov'è ditemi dov'è la leggenda perché ho vinto dopo la partita mi aveva permesso che avevo la leggenda e non la trovo ma ragazzi se state guardando questo video se entro a fine video non riesco a trovare l'agenda da poter mettere nel gioco ditemi voi ragazzi perché veramente io non riesco a trovarlo facciamo un po' modifica squadra in automatico vediamo chi lo mette in campo mi piace questa formazione qua ragazzi con mamma mia bellissima questa formazione con cc mi ha messo l'attaccante mediana mi ha messo il mediano naturale comunque ragazzi lasciate un like se vi è piaciuto per favore commentate il video se questo video arriva come per sempre dico 50 like domani un nuovo episodio sia di fifa sia di pesce ragazzi ho trovato il premio ragazzi ho trovato il premio ho trovato il premio ecco ragazzi finalmente ho trovato il premio non so cosa fare se speccatarlo adesso o nel prossimo episodio voi cosa dite tanto io non ho riuscito a rispondere andiamo a vedere andiamo a vedere dove è il premio ecco ragazzi legend world club ingaggia va ingaggia ingaggiamo dai vogliamo la leggenda chi è adesso chi è sta leggenda chi è sta leggenda ragazzi il pallone nero assicurato al 100% ragazzi giuro che non so chi sia giuro che non so chi sia che è questo bebetto brasiliano secondo punto 6.000 secondo punto madonna santa comunque ragazzi vediamo alla prossima questo concludo si costruisce 50 like arriva a 50 like domani nuovo episodio di FIFA 2021 alla prossima ragazzi vi voglio bene a tutti ciao 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 ciao